Martedì 31 maggio, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, ben ritrovati in diretta con la nostra rassegna stampa in apertura. Andiamo a dare l'aggiornamento rispetto a quello che è accaduto nella notte dal portale dell'Ansa perché è stato raggiunto l'accordo sull'embargo al petrolio russo. Molti temevano slittasse e invece c'è l'intesa con i leader dei 27 al termine di una trattativa lunga e più volte vicina a un naufragare che sono riusciti a salvare l'unità del vecchio continente di fronte al nemico moscovita con una escamotage che accontenta Viktor Orban, il presidente dell'Ungheria e fornisce adeguate garanzie anche ai paesi senza sbocco sul mare. L'intesa prevede un embargo immediato al petrolio che arriva dalla Russia all'Unione Europea via mare mentre rinvia lo stop al greggio trasportato attraverso l'oleodotto. Toccherà agli Sherpa ora analizzare quest'ultimo punto il prima possibile come recita il testo nelle conclusioni. Dall'ultimo aggiornamento torniamo invece alle prime pagine dei quotidiani nazionali per il punto sulle altre novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Partiamo con il Corriere della Sera che apre con la ribattuta rispetto al testo e all'intesa trovata. Entro il 2022 stop al 90% delle importazioni dalla Russia. Draghi, Putin non deve vincere nella notte il vertice dei leader. L'appello a Zelensky è stato nel frattempo ucciso, nuovo reporter nel contesto del conflitto bellico. La frenata poi di Biden sulle armi più potenti. Di spalla abbiamo un intervento sulla politica energetica, gas sia all'attento a dirlo Claudio Descalzi. E poi ancora a centropagina la fotonotizia ci porta in Spagna. Il padre di Ciate è la prima udienza del processo. Ho visto chi uccise mio figlio, ho urlato siete degli assassini. Ancora cronaca, acido sul viso a due sorelle, l'ha lanciato una ragazza a Napoli. Il raid in scutere. Poi la politica italiana, servizi pubblici e balneari, l'ok al Senato, sul DDL concorrenza. Il caso di Patrizia Reggiani, vittima di amici legali e manager. Dalla Corriere ci spostiamo su Repubblica. Petrolio si ha l'embargo dell'Unione Europea via le sanzioni più dure. Le misure contro la Russia con il veto superato, quello di Orbán. Stop subito ai due terzi e poi si salirà al 90%. Esclusi gli oleodotti Draghi Media sullo sblocco del grano di Kiev. La regia dell'ONU e le navi turche. Erdogan tratta con Putin e con Zelensky. Il ministro degli esteri, ucraino Kuleba, dice che servono garantie sui porti. La Lega isola Salvini su Mosca. Emergono affari e blef del suo consulente Capuano. E poi ancora, se il reddito di cittadinanza diventa un alibi, l'editoriale a firma di Chiara Saraceno. Ancora lo sciopero della scuola, ieri in tutta Italia, basta con i tagli, ma solo il 15% aderisce allo sciopero. Questo è il dato a livello nazionale. Andiamo ora su il fatto quotidiano. Ora Biden mette il freno a mano sui missili a Kiev. Gli Stati Uniti, niente razzi a media gittata. Medvedev dice un buon senso. Alleati ancora divisi, perlutto il Donbass. Giudice armi per colpire la Russia. Mai Borrell però fa la voce grossa. Di taglio alto. Il petrolio, niente intesa, il tetto sul gas è finito. E poi Bonomi giustifica gli stipendi da 500 euro l'attacco al reddito. La stampa di Torino. Orban tiene l'Europa in ostaggio. Accordo nella nota del Consiglio dell'Unione. Stoppa l'import del petrolio via nave. Ma le odotti che sono stati preservati. Draghi, Putin non deve prevalere. Ma Biden, Gela Zelensky, non invieremo missili a medio raggio. E poi Friedrich, che raccontava la guerra. Il reporter francese è rimasto vittima. È il trentesimo giornalista ucciso nel conflitto. Andiamo ora sulle 24 ore. In apertura gli extra profitti. 11.000 le imprese sotto tiro con il decreto aiuti. E poi il reportage, l'impianto siderurgico più grande dell'est Europa, la superacciaieria ucraina, tenuta in vita dal CEO italiano. La centropagina, le sanzioni, il petrolio e l'Unione resta divisa. Vedete, alcuni giornali sono riusciti a fare le ribattute con l'aggiornamento che vi abbiamo dato in apertura. Altri invece sono rimasti con le notizie del prevertice. Un prevertice che si è occupato non solo delle sanzioni per quanto riguarda la Russia, l'embargo al petrolio, ma anche sulla necessità di creare dei corridoi alimentari. Ne ha parlato la Presidente del Parlamento europeo, la Maltese, Metzola. Ascoltiamola. Avevamo molte settimane di decisioni difficili. Penso che oggi abbiamo visto una cosa importante. Che i Paesi, i membri, i governi stanno comprendendo che per noi l'unità è la più cosa importante che altrimenti Putin va a prendere vantaggio. Allora per noi vogliamo che queste conclusioni saranno confermate stasera e continueremo a insistere sull'unità che Putin non ha mai pensato a vedere. Sul grano ci sarà una missione europea? Per noi questa è una cosa molto importante. Stiamo vedendo che molti Paesi nell'Africa ma anche in tutto il mondo stanno in posizione di minacce da un autocrato che sta bloccando la salvezza di milioni e milioni di persone. Questo per noi non è accettabile che un Paese, un autocrata, può fare così in questo mondo. Una missione navale quindi in Italia europea? Stiamo considerando anche quelli safe corridors, corridoi marittimi che per noi devono essere la soluzione perché non abbiamo dei milioni e milioni che vanno a morire di fame. Torniamo sui quotidiani, andiamo sulla verità, quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Ossessione per le mascherine ci è costata 9 miliardi di euro, il prezzo dell'emergenza senza i pochi ristori, speso più in bavagli che per ogni altra voce, vaccini compresi. In due anni sono stati stanziati 24,5 miliardi, quasi tutti i bandi aggiudicati con procedure semplificate. Lo scandalo, banche e rotelle, 1.300 milioni buttati. Al Tg1 è rivolta contro la Maggioni, la Rai paga il notturno a chi non lo fa. A centropagina la Morgese litiga con i carabinieri per le canne. Il Viminale esprime forti perplessità sui controlli dei militari nei negozi che vendono cannabis light. Andiamo ora su Libero. Si rubano un terzo degli aiuti. SOS Ocraina, la denuncia di una volontaria dell'esercito di Chievi. Il 30% di cibo e medicinali in arrivo dall'Occidente finisce sul mercato nero, colpa dei ras locali. I cittadini e i soldati sono furiosi. Figuraccia dell'Unione, niente accordo sulle sanzioni, ma abbiamo visto che c'è stato. Giorgetti frena Salvini sul viaggio a Mosca. E poi a centropagina la conduttrice e il bimbo calabrese per una battuta maldestra mi minacciano di morte. E' capitato a una giornalista di una TV di Vicenza. Gli effetti della pandemia, 800 mila fumatori in più. Il primo aumento significativo da 16 anni. Andiamo con il Foglio. Tra le notizie in prima, le sanzioni che funzionano. In questo grafico si vedono i brand che sono scappati dalla Russia. Un prof di Yale ha dimostrato che fuggire da una dittatura porta alle aziende un valore aggiunto. E si spiegano poi gli altri schiaffi che servono contro Putin. Ancora, scienze mattone, messaggio al futuro, al mind a Asso Lombarda. Milano cresce solo se punta al sapere. Andiamo avanti con la prima pagina del giornale. Dictat dei mercati, draghi per sempre. Le trame su Palazzo Chigi. Torna l'ingerenza della finanza sulla politica italiana. Goldman Sachs allergica al voto. Meglio la continuità. Stipendi divorati dall'inflazione. Italia, maglia nera dell'Unione Europea. E poi, a centropagina, cuore semplicità. Ecco il miracolo Monza. Parlano Silvio e Paolo Berlusconi. Il Cavaliere racconta la cavalcata dei brianzoli fino alla storica Serie A. Ci spostiamo ora su il Gazzettino. Con i temi legati al nord-est e non solo. Venezia dal 2023 a pagamento. Dopo tre anni di rinvida, il 16 gennaio scatta per i turisti il contributo di accesso. I Veneti non saranno chiamati a versarlo, ma dovranno comunque prenotare la visita. Questa è la decisione dopo le polemiche per gli accessi alla città e gli assembramenti. Petrolli, embargo a metà solo per quello via mare. E poi, non fanno l'ora di religione, è vietata la visita al Duomo. Un fatto di cronaca che arriva dalla zona di Sandona di Piave. Per quanto riguarda la politica, Verona al voto e il dopo Zai a manovre a centro-destra. Ricordiamo che tra le città italiane che saranno chiamate al voto ci sarà proprio Verona e anche Padova. Per quanto riguarda il Veneto. All'interno del Gazzettino andiamo a dare un'occhiata alle pagine dedicate al Friuli Venezia Giulia. Rissa e denunce al voto dei medici. È dovuta intervenire la polizia per placare gli animi durante l'assemblea dell'ordine e riconvocata per approvare il bilancio. Troppi presenti in sala, votazione sospesa. Il presidente Tiberio dice uno spettacolo non edificante, sgomberati a fatica. A centro pagina, ingegnere di Lignano, travolto ucciso da un camion. Con la tragedia ieri mattina a Varmo, l'84enne stava svoltando e non si è accorto dell'arrivo di un mezzo pesante. Su questo andiamo ad ascoltare il servizio che abbiamo realizzato per i nostri notiziari. Di 84 anni, Giorgio Lupieri, residente a Lignano Sabbiadoro, è morto stamani in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 lungo la strada afferrata nel comune di Varmo, poco dopo il ponte di Madrisio, all'incrocio per Fraforeano. L'auto che stava guidando si è scontrata con un camion. Ai carabinieri di Latisana il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo quanto emerso finora, al momento dell'impatto la vettura stava uscendo dall'incrocio per rimettersi sulla ferrata mentre il camion, proveniente da Portogruaro, era diretto a Manzano. Giorgio Lupieri è deceduto sul colpo, illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante. Sul posto, oltre al personale sanitario e ai carabinieri, hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Udine. In merito a questo e ai precedenti incidenti mortali che si sono verificati sul territorio regionale, i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia invitano la politica a non trascurare il tema della sicurezza stradale. Di fronte a una strage silenziosa, come viene definita, che si aggiorna quotidianamente, ricordano la mozione votata in Consiglio regionale all'unanimità nel novembre 2021, promossa dal Movimento 5 Stelle, con l'obiettivo di una nuova cultura del traffico. Zone 30, campagne di informazione a partire dalle scuole, incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, sono strumenti a disposizione delle istituzioni locali per affrontare la questione, affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Il voto unanime e i principi non bastano, concludono, servono risorse e interventi concreti. Torniamo sul Gazzettino, le altre notizie in prima, il limite all'acqua per i nomadi, la polemica sul consumo idrico nel Camponomeni di via Monte Seibusi, e poi ancora la nuova Tari accende lo scontro in Consiglio Comune a Udine. In Confindustria invece c'è il nuovo statuto per designare il successore di Bono. All'interno, andiamo a vedere degli approfondimenti, proprio partendo da qui, dalla sfida interna al mondo degli industriali, si complica la gestione del dopo Bono, le tensioni tra Udine e Pordenone, Trieste, il voto previsto il 9 giugno, e c'è un diverso peso in Consiglio delle due associazioni territoriali. Nel frattempo un pool di imprese inventa un sistema ecologico per ripulire gli scafi delle barche. 50 anni fa l'autobomba, le vittime senza voce della strage di Peteano, le rivelazioni di vinciguerra di Stolsero, l'attenzione dalle famiglie, poveromo, ferraro e don Giovanni, la memoria riaffiora attraverso una moglie e una nipote. Ancora, sempre dalle pagine del Gazzettino, lo sciopero della scuola, le proteste degli insegnanti, molte scuole chiuse, siamo gli statali meno pagati, l'adesione è superiore al 50%, in alcuni istituti pur aperti mancavano i docenti, al sit-in davanti alla prefettura, anche alcuni genitori, riforme inutili. Di questo abbiamo seguito il sit-in proprio davanti alla prefettura udinese, noi andiamo ad ascoltare le voci dei rappresentanti dei lavoratori del mondo della scuola. È sicuramente un lungo elenco di rivendicazioni che il Governo continua a non percepire. Oggi tante scuole sono chiuse, il personale ha scioperato più del 60%, credo che sia un segnale forte per il Governo. Anche qui nella nostra regione manca organico, manca personale ATA per tenere aperte le scuole, manca il personale anche qui, abbiamo una particolarità delle scuole slovene, manca il personale anche in quelle scuole che sono l'ultima ruota del carro. È bene che il Governo davvero, se ci tiene alla scuola, se ci tiene all'istruzione, se ci tiene al futuro dei giovani, incomincia a pensarci, non solo a parole, con i fatti, abbiamo bisogno di fatti. Oggi siamo qui a Udine, manifestazione come sciopero, per dire no a una riforma, a un contratto per legge, perché bisogna contrattare. Sono tre anni che la scuola non ha il rinnovo del contratto e non riteniamo corretto, giusto, che il Governo faccia per decreto legge i rinnovi. C'è una buona partecipazione in tutte le scuole del Friuli e le scuole d'Italia, da parte dei docenti, del personale ATA, dai collaboratori amministrativi. Tutti dicono no a questo decreto legge 36, varato dal Governo al mese di aprile. Stiamo vedendo anche qua, nella nostra regione c'è tanta, abbiamo fatto un giro di telefonate nelle scuole ed è pieno. La gente è arrabbiata, la gente ha bisogno di quello che noi stiamo chiedendo, il contratto. La scuola deve essere rispettata e il Governo non la sta rispettando. Non possiamo solo aspettare parole, parole, parole. Dalle parole ci vogliono i fatti. Tutti dicono che la scuola serve la scuola, serve la scuola. Però in realtà, dei fatti, la maggioranza, per cui sono tutti i partiti da destra e sinistra, non stanno facendo nulla per la scuola, stanno demoralizzando le persone. E ci dobbiamo rendere conto che in questi due anni di pandemia la scuola ha lavorato sempre, era sempre presente, pur non avendo attrezzature, mezzi, con i propri mezzi, ha lavorato e ha dato un segnale forte al popolo intero. E questo non è rispetto per tutto il personale, dal collaboratore scolastico al dirigente, passando per i docenti. Ci vuole rispetto per i lavoratori tutti della scuola. Il caso dei medici in assemblea all'ordine di Udine ha dovuto intervenire la polizia, la Barahonda al secondo piano dopo la bocciatura del bilancio, spintoni e urlo. Abbiamo dovuto separare dei colleghi, hanno raccontato i presenti, presentato anche un esposto in procura, perché domenica, nella prima convocazione dell'assemblea stessa, non c'era nessuno in sede. Dalle pagine del Gazzettino ci spostiamo, quelle del Messaggero Veneto, l'edizione dedicata al Friuli, con in primo piano, nell'apertura del giornale, anche in questo caso allo stop all'assemblea dell'ordine dei medici, ancora scontro, contrasti su sospensioni ai Novax, presunte disparità di trattamento, il Presidente sospende la riunione, slitta l'approvazione del bilancio a centro pagina. La protesta della scuola, siamo i peggio pagati, e ancora le notizie riprese in cronaca, è morto a 85 anni Terenzo del Sali, imprenditore sportivo, i medici gli estraggono dallo stomaco l'orologio che aveva ingoiato, è successo in ospedale a Udine, e poi ancora ritrovano il cane che avevano perso da cucciolo nel 2009. All'interno, nelle pagine dedicate al territorio, l'apertura su Udine, con la questione dello scontro all'assemblea dell'ordine dei medici, assemblea che è saltata nuovamente, il Presidente a motivi di sicurezza, l'opposizione sapeva di non avere i voti. Ancora per quanto riguarda la situazione cittadina, le classi sovraffollate, le poche risorse, il personale scolastico contro il Governo. Dalle pagine del messaggero di Udine a quelle di Pordenone, andiamo a dare un'occhiata all'edizione della destra tagliamento. Il contratto tra tre comuni per rilanciare il noncello, ma intanto pochi gli eventi, oltre ai municipi di Pordenone, Porceco e Renosco, involti enti e associazioni, ci vorranno tre anni per realizzarla, intanto l'imbarcadero e Rivierasca non sono sfruttati, questo è quanto accaduto ieri nella presentazione dell'iniziativa con anche ulteriori sviluppi, paludezzo sul vincolo molinare, i residenti non temano, niente cementificazione, parla la gente immobiliare, c'è tutto solo un deturpante cannone, sagome e altezze non saranno modificate, c'è la presentazione del nuovo piano. Dal Messaggero Veneto andiamo al piccolo, l'edizione di Gorizia, con la prima pagina dedicata a Boris Pachor, la voce degli orrori del Novecento, si è spento ieri all'età di 108 anni, e andiamo ad ascoltare proprio una delle ultime interviste che aveva rilasciato ai nostri microfoni in occasione dell'edizione 2019 di Estoria, al microfono di Francesca Santoro. Io ringrazio l'occasione che mi hanno dato di parlare di una parte della storia di Suta e credo di essere riuscito a dare una specie di idea generale che dovrebbe essere accettata e quindi una storia di vita tartassata e vita che ha fatto piangere e morire. Perché a dimenticare tutto quello che è stato fatto di male non è giusto e non è neanche salutare, non fa bene la salute, perché l'uomo quando è sincero è sano, quando dimentica lì dove è stato fatto dei sacrifici grandi, con popolazioni intere sacrificate, come è stato nel secolo XX e che oggi è dimenticato del tutto da una società che è povera. Non è onesta a dimenticare i campi di concentramento, di eserciti morti. Dobbiamo ricordarli in maniera da insegnare alla nostra gente giovanile guardate che quella gente lì è morta per le verità che valgono per tutti, essere liberi di pensare e di scrivere. Queste dunque le parole di Baris Pachor. Tornando all'apertura del piccolo, ieri la presentazione, il varo della nuova Explora 1 con una svolta green della società cantieristica, sono state ridotte le emissioni con la propulsione ibrida a gasolio. La prima comandante donna di una nave da crociera ha visto il suo debutto ieri nella città dei cantieri. All'interno delle pagine del piccolo di Gorizia c'è la campagna elettorale che continua, i candidati sindaco sono in disaccordo sul mercato coperto e il piano del traffico. Sono io il vero no green pass, demarco contro le altre liste. E poi ancora Godi, che non lascerà il direttivo, sempre rispettato lo statuto, tiene banco il caso delle violiniste strommesse dal premio Lipitzer-Oretti, dal presidente quali parole inaccettabili e fuori posto. L'assessore comunale alla cultura non esclude decisioni forti. Dal piccolo di Gorizia all'edizione di Trieste, anche in questo caso ritroviamo i ricordi di Boris Parkour, ma poi a centropagine anche le questioni politiche cittadine di piazza che chiude il Grizzar dopo l'SOS di Tamberi. Il sindaco effettua un sopralluogo, riapro solo quando la Fidal mi dà garanzie. Questo per quanto riguarda lo storico stadio triestino che ospita l'atletica leggera. Ora andiamo ad aprire le pagine dei quotidiani sportivi con le notizie in primo piano. Corriere dello Sport che apre con Marotta, che va in contropiede per Dybala. Lo voglio, spero che Paolo giochi nell'Inter. Ivan puntava alla Premier, si saluta dunque Perisic, Juve, via al piano Allegri, quattro novità per riprendere lo scudetto. Domani la nuova divisa con l'Argentina, l'Italia e il Mondiale, solo sulle maglie. Berlusconi fa più ricca la Serie A, il Monza investirà almeno 60 milioni per la nuova formazione. Il Napoli, Aurelio sfida KK e Mertens, dell'Aurentis con il nodo dei rinnovi. Io, tradito dalla Lazio, l'ulice esclusivo, l'ex capitano rompe il silenzio. Non mi hanno detto grazie, è finita senza una parola, ma quel 26 maggio sarà per sempre. E poi ancora Sinner, che è costretto a ritirarsi dagli ATP di Parigi, fuori anche la Giorgi, per quanto riguarda gli atleti azzurri. Dalle pagine del Corriere dello Sport, andiamo a tutto sport. Conta solo vincere. Allegri a ruota libera, De Litte Locatelli leader della Juve di domani, Vlaovic carismatico, la squadra ha bisogno di carattere. E poi ancora l'Inter, il giorno di Lukaku, rinuncio al 50%, l'oggi incontro con i legali del Belga, si ha il taglio dell'ingaggio, va convinto il Chelsea sul prestito, ma rotta non si nasconde più, Di Bala spero venga da noi. Toro, così Belotti perde i urici e i tifosi. E poi ancora, da Cerbi a Messias, il progetto dell'Euro Monza, i piani per una Serie A di vertice. Il giallo di Monte Carlo, chi comanda alla Ferrari, si torna sul Gran Premio di domenica. E poi Milan Modello City, franchige e successi. Andiamo a vedere l'apertura della Gazzetta dello Sport. Fumata rosso-nera. Ci siamo, il Milan passa da Elliot a Redbird con il nuovo fondo, Cardinale a Milano, parte il nuovo corso, l'intesa 1,3 miliardi, atteso l'annuncio. Maian, lo scudetto, ringrazio il capo in Coppa contro l'Inter. Di Bala chiama Lukaku, Inter sulla giostra, anche Sanchez e Lautaro, Marotta esce allo scoperto, spero che Paolo venga da noi. Più difficile Romelu oggi incontro con l'avvocato, ma poi c'è anche il Chelsea da convincere. Blitz di Maria, il mercato di Bianconeri, la Juve vola a Londra per il sì dell'Argentino. La dura estate di Vlaovic, dove curare la pubalgia. Poi, l'intervista a Galliani, la promozione vale la Champions, faremo un Monza fortissimo. Nazionale, sorpresa Mancio, con Gnonto, che ha 18 anni, è convocato tra i 30 per la sfida con l'Argentina. All'interno delle pagine della Gazzetta ci sono, come al solito, anche le notizie dedicate all'Udinese, Udinese che ritroviamo anche sulle pagine sportive del Gazzettino. Fiore punta su Sottil, compagni in Bianconeri, tra il 99 e il 2001, Andrea Grinte, tranquillità per fare bene in panchina. Questo sul futuro mister dell'Udinese in attesa di novità. Il plebiscito dei tifosi serio è attaccato alla maglia. Questo il giudizio sul tecnico dell'Ascoli. Se la società ha deciso per lui significa che sono stati convinti dal suo lavoro ad Ascoli, dice ancora l'ex compagno Fiore. C'è anche il riconoscimento per il presidente dell'Udinese Soldati al quale è stato assegnato il premio dei Lions. E poi, il mercato, Marie si lavora per il prestito, l'Ovric è pronto, contatti con l'Arsenal per il forte difensore spagnolo che tornerebbe volentieri. Lo sloveno invece è già assegnato all'Inter. A centrocampo piace il giovane Juventino Ranocchia. Queste le ultime voci sui bianconeri. Ma di Udinese, del suo futuro, ha parlato ieri sera al direttore di Udinese TV e Sport Italia, Michele Criscitello, in occasione di Udinese Tonight, l'ultima puntata della stagione sportiva per lasciare poi il posto dal prossimo lunedì al Tonight Estate. Andiamo ad ascoltare proprio un passaggio del direttore Criscitello su Sottile. Io credo che l'Udinese la scelta l'abbia fatta. È Sottile, tra l'altro umanamente e diciamo non a livello tattico come allenatore ma i Pozzo lo conoscono bene perché ad Udinese ha giocato. Quindi pregi e difetti l'Udinese li conosce, sa chi va a prendere. Come allenatore ovviamente lo possiamo giudicare per quello che ha fatto vedere in Serie C e in Serie B e come allenatore assolutamente non si discute a grandi idee tattiche. Non ha mai lavorato con gente e calciatori di questo spessore sicuramente con tanti stranieri messi insieme. Il problema dell'Ascoli credo sia un falso problema perché poi è come al solito un tiro e molla poi le società si mettono d'accordo. L'Udinese darà due prestiti qualche calciatore all'Ascoli e tutto si risolverà. Se questa è la decisione dei Pozzo e credo che sia questa ormai si va verso un allenatore che in via ha fatto molto bene. La settimana scorsa a proposito di mercato di Serie B quando ti ho fatto la lista della spesa ti avevo fatto un nome. Nessuno mi ha seguito neanche Moras che è un tecnico ed è un tattico però Alvini che va a Cremona per me se stiamo sul mercato di Serie B era un'ottima scelta anche se leggermente dieci anni forse più grande di Sottil non lo so. Sottil ha fatto molto bene ad Ascoli fa giocare bene le sue squadre e credo che comunque alla fine possa essere una scelta giusta se un allenatore che doveva fare un passo dalla B alla A Sottil e Alvini sono quelli e Pecchia sono quelli che hanno fatto meglio. C'è anche la scelta del Pordenone per la propria nuova panchina è fatta con Di Cal due anni tra i ramarri domani l'ufficializzazione venerdì la presentazione del tecnico al De Marchi dal Monza arriverà poi un bonus per Ciurria Burrai e Cagliari ci prova con il Pordenone dunque che prova a rimettersi in carreggiata con il nuovo campionato di Lega Pro dopo la retrocessione è stato sperimentato il Varma difficili che nella prossima stagione possa prendere piede anche appunto in Lega Pro il calcio dilettante Sacilese Casarsa l'ultimo duello sorpresa Sarone Caneva l'esito dopo l'ultimo turno di campionato per quanto riguarda la promozione è ancora penna bianca basso si congede dopo 13 stagioni il Valle i rivali ancora da decidere tra Verona o Pistoia Pilastrini della Gesteco dice tifo fantastico per quanto riguarda la serie B Cividale sul fronte ciclismo invece Buratti Calaltris campioni a San Daniele oggi il Criterium con De Marchi Cimolai Nibali e altri Big intanto l'Under 23 del Cycling Team Friuli fa centro anche in Toscana dalle pagine sportive del Gazzettino a quelle del Messaggero andiamo a dare un'occhiata ulteriore per quanto riguarda proprio lo sport Verona perde colpi contro Pistoia le quotazioni dell'Apu sono in rialzo Udine e canto avanzano la candidatura alla serie A mentre i detti avversari sono tutte alla bella già venduti mille mini abbonamenti la squadra si è allenata al completo e poi il ciclismo stasera Nibali al Città di San Daniele la prima edizione nel 2019 la vinse lui per quanto riguarda lo sport quotidiano ci fermiamo qui vi ricordiamo gli appuntamenti di giornata torneremo live con l'informazione alle 12 poi alle 15 pomeriggio calcio alle 16 alle 19 ancora i nostri notiziari e in prima serata dopo le pillole di Fair Play ritorna basket a nord-est con Massimo Campazzo per quanto riguarda le pillole di Fair Play invece torneremo con Nicola Angeli e non con Francesco Pezzella a percorrere le piste ciclavidi di Udine la terza parte della nostra inchiesta grazie per averci seguito a tutti voi l'augurio di una buona giornata e vi lasciamo le previsioni del tempo amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo giornata di martedì caratterizzata da residuo a variabilità sul frioli Venezia-Giulia caso di una circolazione depressionaria ancora attiva sull'Europa centro-settentrionale ancora infatti qualche nube di passaggio con possibili brevi e isolati acquazioni pomeridiane e ridosso dei rilievi di situazione migliore in pianura temperature massime il lieve aumento non supereremo però i 26-27 gradi vediamo più nello specifico la situazione sulle province di Pordenone e Udine giornata quindi che vede residuo a variabilità ancora qualche nube di passaggio alternata a schiarite e possibili brevi e isolati piovaschi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi temperature massime fino ai 26-27 gradi situazione analoga poi sulle province di Gorizia e Trieste ci attende una giornata che vede ancora qualche nube di passaggio alternata a spazi soleggiati ma in un contesto tendenzialmente asciutto temperature massime che qui non supereranno i 25-26 gradi per dettagli maggiori scaricate e consultate l'app di Travi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti